Cambia la viabilità in via Lorenzo il Magnifico, piazza della Libertà via Piercapponi e via Leonardo da Vinci a Firenze, per i saggi archeologici preliminari alla realizzazione della nuova conduttura dell'acquedotto e in vista della realizzazione della nuova linea della tramvia. Le modifiche sono state articolate in due fasi, programmate rispettivamente per domenica 27 dicembre e nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 dicembre. Da viale Strozzi chi utilizzerà viale Lavagnini potrà soltanto proseguire verso viale Matteotti. Per raggiungere viale Don Minzoni le cure si dovrà usare via Lorenzo il Magnifico, raggiungibile dal controviale di viale Strozzi, sia dalla corsia destra lato edifici, con obbligo di svoltare in via Lorenzo il Magnifico, sia dalla corsia sinistra del controviale lato sottopasso, sempre consentita la possibilità di proseguire verso statuto. I veicoli che percorreranno via Lorenzo il Magnifico, una volta arrivati in piazza della Libertà, potranno rientrare verso viale Milton, utilizzando via Toscanelli, proseguire a diritto verso via Piercapponi, piazza Savonarola e Firenze Sud, oppure verso viale Don Minzoni le cure Stadio. Questa viabilità rimarrà anche successivamente quando la tramvia sarà in funzione.